Buongiorno, 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 buon mercoledì 5 luglio 2023 da Vittorio Gassinesi in diretta da Radio Show. Allora, allora, cosa dire? Innanzitutto il buongiorno vi viene non solo da parte mia ma anche da parte di tutti quelli che mandano messaggi al numero WhatsApp 347 6215614 frasi del buon mercoledì che sono segni di piccoli messaggi di incoraggiamento che ci ricordano come affrontare la giornata con positività e determinazione. Allora, il buongiorno, il buon mercoledì 5 luglio può essere un momento complicato per molti di noi dopo due giorni di lavoro siamo già a metà settimana, un po' tanto e spesso affrontiamo la giornata con una fatica già accumulata. Scusate, ma ancora io sento il peso della fatica. Tuttavia non importa quanto ci siamo sentiti o ci sentiamo stanchi, il mercoledì è anche un giorno pieno di possibilità e di speranze quindi per il resto della settimana c'è un motivo importante per iniziare la giornata con la giusta mentalità e le frasi di buongiorno che posso aiutare. Ad esempio, ce n'è una che vorrei dare come si dice come inizio. Buon mercoledì a tutti, spero che la vostra giornata sia ricca di successi e soddisfazioni, che il vostro mercoledì sia l'insegna della determinazione, affrontate ogni sfida con fiducia e non mollate, è importante. Ricordatevi che il giorno del mercoledì è un'opportunità per crescere e realizzare i vostri sogni, quindi che questo mercoledì porti con sé la giusta dose di energia e positività per affrontare al meglio il resto della settimana. Quindi ricordatevi di prendervi cura, di prendervi cura soprattutto di voi stessi e di fare qualcosa che vi rende felici oggi. Questo è il modo per iniziare. Mercoledì 5 luglio 2023 la chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria, non Sant'Antonio Abate, insomma è tutta altra cosa, ma comunque auguri a quelli che oggi in occasione del 5 luglio festeggiano Sant'Antonio Maria Zaccaria. Ah, il proverbio del giorno, bisogna ricordare di che si tratta e via, andiamo subito a leggere che proverbio ci propone questa mattina. Ah, eccolo qua, proverbio del giorno, al bisogno si conosce l'amico, è vero, è proprio vero. Molto, e vi ritiro questo fatto qui. Bene, prima di iniziare a fare gli auguri, volevo leggere un po' le notizie che campeggiano sul quotidiano locale, sui vari siti internet e soprattutto anche a livello nazionale. Di dominio pubblico, la notizia dell'anziano tranese trovato morto in saccappello e sono stati indagati figli per truffa IMS. Ovviamente è stato identificato il cadavere rinvenuto la scorsa estate a Castrovalva, frazione del comune di Aversa e degli Abruzzi e si tratta di del negro, aspettate un attimo che non voglio sbagliare, signor del negro Bruno, sono stati indagati figli ed un'altra persona per occultamento e truffa ovviamente all'IMMS. Queste sono le notizie del giorno, cioè praticamente su tutti i siti della comunità tranese sicuramente è rimasta, come dire, davvero sconcertata da questa situazione, davvero, io sono rimasto stupito di questo che è accaduto. Ovviamente le fasi delle indagini sono state concluse e quindi sono stati indagati. Altra notizia, vediamo un po' se ce n'è un'altra più carina, andiamo a dare un'occhiata a qualcosa di simpatico. Torna il Cavo Fest al Parco Santa Geffa, sabato 8 luglio a partire dalle ore 21 presso il Parco Santa Geffa sulla strada vicinale delle vie delle tuffare, nuovo appuntamento per il Cavo Fest edizione 2023, intitolato Materia, iniziativa cofinanziata dall'assessorato alle culture della città di Trani e c'è un programma ricchissimo, se volete potete dare un'occhiata sui siti locali, ce ne sono diversi. Un'altra notizia, vediamo un po', qualcosa di carino, sabato 8 luglio il gala dell'estate in Piazza Duomo, l'abbiamo ricordato ieri, il concerto della Polizia di Stato, ovviamente ingresso libero, alle ore 21 inizia il concerto della banda musicale della Polizia che aprirà la rassegna musicale sabato 8 luglio alle ore 21 in Piazza Duomo a Trani, che è stato un evento fortemente voluto dal dottor Roberto Pellicone, questore della provincia di Barletta Andriatrani, ovviamente grazie anche alla fondazione Seca. Che dire, adesso basta, facciamo gli auguri, non vi voglio annoiare perché sennò poi alla fine, che trasmissione è questa? La trasmissione di auguri. E allora tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a tutti, giorni lieti, a te, Gli auguri, gli auguri di oggi 5 luglio, mercoledì, mercoledì 5 luglio 2023, tanti auguri a, al mio caro amico Emanuele Lombardi, DJ del Parco delle Rose, amico di tante e tantissime avventure musicali, straordinario amico e personaggio. Auguri caro Emanuele, buon compleanno, come agli auguri che vado a fare al mio caro amico Antonio De Pasquale. Ciao Antonio, buon compleanno. ovviamente tanti, tantissimi auguri alla signora Lavacca, la moglie del nostro caro Raffaele, Luciana Di Leo. Tanti auguri a Nicolino Fatone. Nicolino, tanti auguri, mi raccomando, comportati bene. Paolo Baldassare, tanti auguri a Patrizio Scamarcio, il figliolo del simpaticissimo Mario Scamarcio, detto Mario D'Andria. Come stai a proposito Mario? Fammi sapere, dammi notizie. Renata Lamu, ciao Renata, buon compleanno anche a Dino Riccardo Carbutti, a Vito Triglie. a Ignazio Di Toma e Pierpaolo Leo. A questi nostri amici tanti, tantissimi auguri. Buon compleanno, poi ringraziano per aver fatto gli auguri ieri, l'altro ieri, anche perché siamo andati in onda, molti amici che hanno festeggiato il compleanno. Quindi se volete ricevere i vostri auguri basta che voi vi, come dire, mi mandate un messaggio whatsapp al 347-6215-614. Questo numero è a vostra completa disposizione. Eccolo qua. Il numero è 347-6215-614. E se volete, ovviamente, potete anche cercarmi sui canali Facebook, Twitter, Instagram, che so... e che altro. E c'è anche l'opportunità di fare gli auguri tramite il canale YouTube, che tutto questo verrà poi postato su questo canale. Bene. Ah, c'è anche la pagina TikTok, quindi io vi chiedo di iscrivervi a tutte queste pagine, così al massimo riusciamo ad avere tutti questi auguri. D'accordo? Bene. Con la trasmissione di oggi, la diretta di questa puntata, oggi mercoledì 5 luglio 2023 è tutto. Ci risentiamo alla prossima occasione. Grazie per aver seguito e buongiorno a tutti da Radio Show. Yo, 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 yo!